Marshall, Gulo non esagerava. L'intera zona è piena di sudari immortali. Gli stronzi che hanno ucciso Gulo. Cerca di entrare e recuperare le informazioni, ma fa attenzione. Sono dei bastardi, ma dei bastardi tosti. Le troverò. Come ho detto, crepano che è un piacere. Incavertura! Siamo gli immortali. Oddio! L'autorità non usa questo posto da un pezzo, questo è certo. Credi che funzionerà? Chiedati, so come fanno. Danno una nuova mano di vernici e dicono che è l'ultimo modello. Troveremo il modo di infiltrarci nella rete da qui. Alla nuova! Alla nuova! Alla nuova! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È un posto nostro. Scarica quello che puoi con il Locus. I dati arrivano. Funziona. È una miniera d'oro. Ho tutto sul loro sistema di sicurezza. Grazie a tutti. Bastardi dell'autorità. Dove eravate quando c'era da uccidere un milione di sudani? Grazie a tutti. Ti conviene tornare. Con queste informazioni posso ultimare il disturbatore in tempo zero. Progetto Daga, arriviamo. In marcia.